Pipistrello, il mio gatto, mi ha chiesto, oltre alla solita manciata di croccantini, una sim mobile da associare a WhatsApp, ma al negozio di telefonia mobile, nel mentre del rifilare il solito abbonamento in super offerta, si sono accorti del non poter espletare le pratiche per un gatto. Niente paura un modo si trova. Lesti io e Pipistrello ci siamo messi alla ricerca della soluzione perfetta. Trovato un servizio VoIP affidabile con numero fisso reale, magari gratuito ed associabile a WhatsApp, Pipistrello ha avuto il suo bel numero americano. Ecco la procedura nel dettaglio. Da Google Play installare Dingtone ed accedere al servizio anche semplicemente registrandosi con la propria e-mail, io ho usato un mio numero di cellulare. Se si vuole avere un numero telefonico gratuitamente bisogna accumulare crediti facendo varie azioni come vedere video pubblicitari, provare applicazioni varie, ecc. Raggiunti, con una vagonata di santa pazienza, i crediti necessari, per un numero americano ce ne vogliono 100 ogni anno, oppure 1,99 dollari all'anno nel versione a pagamento, si cerca un numero, si verifica che sia accettato da WhatsApp e si procede per l'assegnazione. Infine si associa il numero VoIP ottenuto a WhatsApp. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.